Salve, sono Gabriele Ferrazzano, responsabile sviluppo EniEnjoy. Grazie a Sedoma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale, oggi ho l'opportunità di presentarvi le offerte e le promozioni pensate per il periodo natalizio. Chi noleggia un'auto Enjoy con la livrea natalizia ha diritto a un voucher di 5 euro e la possibilità di partecipare a un concorso con un premio pari a un anno di servizi Enjoy. Inoltre dal 24 dicembre 2022 all'8 gennaio 2023 sarà possibile noleggiare un veicolo Enjoy con 39 euro al giorno con 150 chilometri e carburante incluso. Per maggiori dettagli fate riferimento per favore al sito ufficiale Enjoy e all'app dedicata. Grazie.